Diciamo che noi abbiamo avuto un mandato elettorale molto chiaro dagli elettori che era quello di cambiare radicalmente le cose. Ovviamente non sta a noi giudicare se lo abbiamo fatto in meglio o in peggio. Credo che però per una pubblica amministrazione il cambio sia sempre una cosa necessaria. Abbiamo cercato di portare una nuova mentalità, avevamo denunciato in campagna elettorale una pubblica amministrazione che non era al servizio dei cittadini, spreco di denaro pubblico, inefficienza, incapacità legata alla dirigenza politica. Per la verità non ci aspettavamo neanche, quando l'abbiamo detto in campagna elettorale, di trovare una situazione così grave come noi abbiamo trovato e come peraltro le carte stanno dimostrando e sono lì sotto gli occhi di tutti. Ma al di là della valutazione, questa mia ultima, che è più politica, quindi soggettiva, opinabile, anche se ci sono dei numeri di cui poi parleremo evidenti, il cambio di passo amministrativo, approfittando delle nuove tecnologie, dell'informatica, di tante risorse umane messe in campo da parte di tante persone, avvocati, professionisti, professori universitari, che hanno deciso di lavorare gratuitamente per la provincia, mi è stato contestato che queste persone costano la provincia perché usano il telefono della provincia. Noi c'è proprio da ridere, effettivamente abbiamo speso complessivamente come risorse umane esterne alla provincia in sei mesi 300 mila euro, attivando il nucleo di controllo di gestione che è un organo fondamentale per misurare l'efficienza dell'ente, due commissioni di controllo, una di verifica ragioneristica e un'altra di verifica sui lavori pubblici. Ciò nonostante noi abbiamo speso 300 mila euro, chi ci ha preceduto 4 milioni di euro. Allora credo che quando qualcuno, come ha fatto qualche consigliere provinciale, che evidentemente faceva lo spiritoso, ci accusava di aver fatto troppe nomine gratuite perché poi spendevano il telefono della provincia, insomma mi sembra veramente che siamo surrisibili. Chiaramente bisogna fare tanto ancora, non c'è dubbio. Personalmente ritengo che si deve fare di più. Gli assessori hanno fatto bene il loro dovere, devo dire che il personale della provincia è stato straordinario ad allinearsi alle nuove direttive, a dimostrazione che i dipendenti pubblici sono una risorsa importante e lavorano nella misura in cui chi ha la responsabilità è pronto a dare l'esempio. Noi tutti quanti, e forse io meno dagli altri, anche per altri incarichi che io rivesto, abbiamo lavorato veramente tantissimo, quindi io sono contentissimo di tutta la squadra. Da me forse è giusto pretendere qualcosa in più. Peraltro voglio anche dire che, visto che se ne è parlato, il mio doppio incarico sicuramente mi sottrae del tempo in più che potrei dedicare dal punto di vista quantitativo alla provincia, ma credo che è evidente, anche con la decisione che il governo ha preso ieri con decreto legge sui rifiuti, che avere un parlamentare, un deputato che è anche parlamentare considerato. Ieri sono stato inserito, peraltro, anche nella conferenza Stato-Regioni, che è un altro obiettivo non di carattere personale, ma è evidente che se io vado al tavolo del governo a trattare per tutte le province d'Italia e siamo solo in tre, credo che qualche vantaggio per la nostra provincia ci sia, è innegabile. È chiaro che bisogna fare sempre di più. Noi in questi sei mesi con l'ultimo colpo d'ala, più che di coda, che è stato quello di decidere, ed è una decisione coraggiosa che abbiamo preso insieme alla Giunta, di ruotare quasi per intero il corpo dei dirigenti. È una decisione coraggiosa perché la cosa più comoda che si può fare è lasciare tutto come prima, anche perché devo dire che io non ho nulla da rimproverare ai dirigenti se non è il fatto che molti di loro erano da 15-20 anni a rivestire lo stesso incarico e secondo me è sbagliato. Io voglio dire che non me ne vogliono i dirigenti della provincia di Salerno o gli altri dirigenti, ma l'arma dei carabinieri che sicuramente ha una organizzazione dirigenziale che è tra le migliori, non voglio dire la migliore perché io sono ufficiale dei carabinieri e potrebbe sembrare ogni 4 anni massimo 5 manda via gli ufficiali da dove sono. Quindi è un metodo di lavoro importante quello di garantire la rotazione della struttura dirigenziale. È nell'interesse prima di tutto dei dirigenti e dei dipendenti, c'è un nuovo stimolo, avere un nuovo dirigente, un dirigente, nuovi dipendenti e un modo per lavorare diversamente. Certo, è chiaro che si espone l'ente provincia a degli scossoni perché i meccanismi già collaudati in qualche maniera funzionano, ma io credo che sia necessario funzionare meglio e d'altro canto la nostra grande e bella provincia potrebbe essere tra le prime d'Italia ed è notorio che 15 anni di malgoverno l'hanno portata a essere tra le ultime nella graduatoria, non che ha fatto Cirelli ma che ha fatto il sole 24 ore ed è evidente che ci voleva un passo diverso che noi speriamo migliore. La sua è una squadra solida e coesa, ma qual è l'obiettivo primario almeno per i primi sei mesi del 2010? Innanzitutto confermare l'andamento che noi abbiamo preso che dovrebbe entrare a regime da gennaio. Con quest'ultima rotazione dei dirigenti io ho terminato il lungo lavoro di piena conoscenza e piena padronanza nella macchina amministrativa della provincia dando una serie di segnali completamente diversi proprio sull'utilizzo del denaro pubblico, sulla trasparenza, ne parleremo, l'informatizzazione, protocolli elettronici, ordine cronologico nei pagamenti, tante cose che sembrerebbero ordinarie, normali e banali ma qui erano proprio una chimera e devo dire che non avremmo potuto fare queste cose se i dirigenti, i dipendenti della provincia nel loro complesso non ci fossero stati vicini. Devo dire che da questo punto di vista non abbiamo alcuna lamentela da fare, ci possono essere delle piccole cose sul piano soggettivo che vanno cambiate. Nei sei mesi che noi veniamo dobbiamo soprattutto far partire le opere pubbliche che pure abbiamo messo in campo ma è necessario dare un movimento da questo punto di vista. Peraltro dovremmo aver centrato l'obiettivo di rientrare dal patto di stabilità e quindi credo che già un grande merito una provincia che aveva sforato il patto di stabilità piena di debiti, senza risorse, in sei mesi bruciato tutto, senza un controllo di trasparenza. Lo ricordo che la vecchia amministrazione è sotto il controllo dell'ente di ingrandimento di una procedura di infrazione da parte della Corte dei Conti su una serie di cose anche abbastanza gravi e alla fine credo aver riportato alla normalità questo ente e avviarlo verso essere un modello. Se pensate che il protocollo di intesa con il Ministro Brunetta sull'informatizzazione, le government, l'innovazione tecnologica, la trasparenza amministrativa, solo due province in tutta Italia hanno potuto firmarle, quella di Salerno e di Milano. Credo che sia già un risultato di per sé che dimostra che stiamo lavorando nella direzione giusta. Certo, lo ripeto, dobbiamo fare ancora tanto, dobbiamo rimboccarci le maniche, ma siamo pronti a fare il nostro dovere. Presidente, sotto l'albero di questa provincia c'è anche il termo valorizzatore da ieri. Sicuramente è una grossa responsabilità gestire il ciclo integrale dei rifiuti, la raccolta delle tasse, la differenziazione, domani il riciclaggio, la termo valorizzazione, la realizzazione del termo valorizzatore è un incarico di competenza straordinaria. Se lei pensa che De Luca in due anni doveva solo fare il termo valorizzatore e non ci è riuscito, ma è notoriamente De Luca è una persona decisa e decisionista, noi oggi dobbiamo fare il termo valorizzatore, dobbiamo assorbire quattro consorzi, risolvere il problema del personale, risolvere il problema delle due tariffe della Tarso e della TIA, fare i ruolini, fare anticipazioni, gestire il ciclo integrale, assicurare la pulizia delle strade, ovviamente tramite i comuni, ma comunque mettere in campo tutto ciò credo che sia una responsabilità enorme, noi l'abbiamo chiesta perché secondo noi è giusto che chi vince l'elezione e viene eletto, si deve assumere anche le responsabilità e non si deve nascondere in una miriade di responsabilità, quindi abbiamo chiesto di avere una responsabilità totale, ovviamente lo posso fare anche perché ho l'assessore Romano che è comprovatamente straordinario nel settore ambientale, poi lo vedremo, è uno dei settori su cui noi intendiamo lavorare di più.